Ciao a tutti, come da voi richiesto, oggi sono qui per parlare un po' in generale di queste polemiche che girano attorno a queste Olimpiadi di Parigi del 2024. Molti di voi mi hanno chiesto di parlare di quello che è accaduto tra Imane Calif, la pugile donna o non donna, e la pugile italiana Angela Carini. Se non erro, credo di aver detto tutto bene, perché io ragazzi, dopo aver visto, analizzato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, onestamente non ho proprio il piacere di guardare, capite? Perché stanno accadendo delle cose che veramente ti fanno capire che anche le Olimpiadi, per loro, sono un bel palchetto per far discutere, capito? Per far discutere, per far parlare, per far concentrare la mente collettiva, per far concentrare proprio le menti delle persone su cose che hanno sì valore, ma se andiamo comunque ad analizzare nel profondo il tutto, ci sono dei problemi nel mondo che sono molto più gravi di una pugile che è donna o non donna. Ora, per quanto riguarda Imane Calif, io mi sono un po' informata e a quanto pare, coloro che comunque gestiscono il tutto, si sono, diciamo, espressi alti gravi, alti, sì, gravi comunque di coloro che organizzano, gestiscono le Olimpiadi, hanno detto che la donna è donna, ok? Quindi, non è assolutamente un uomo, diciamo così, travestito da donna, ha semplicemente più testosterone di altre donne, ed è per questo che, appunto, Imane Calif appare come un uomo, perché effettivamente questa ragazza somiglia molto ad un uomo, ok? Quindi, è accaduto un casino, perché è effettivamente accaduto un casino, tra l'altro sto leggendo alcuni titoli, per esempio, per molti, appunto, Calif è un uomo, è un uomo che si identifica però in una donna, e quindi molte persone dicono, questa non è una donna, non è una pugile donna, è un pugile uomo che si identifica come donna, e coloro che si occupano di gestire le Olimpiadi, eccetera, eccetera, la stanno facendo giocare, semplicemente perché hanno bisogno di uno scandalo, e hanno bisogno che il mondo parli di questo scandalo, ok? Come fanno solitamente. Non so se voi avete notato questo, ma ogni volta che si organizza qualche evento a livello mondiale, c'è sempre qualche scandalo associato a quell'evento, ok? Perché vi ho detto, per loro, questi eventi a livello mondiale sono un bel palco per andare a creare un evento che faccia discutere il mondo, e che faccia quindi discostare le persone da problemi che davvero meriterebbero attenzione. Quindi, da una parte ci sono persone che ancora si ostinano a dire che Imane Calif non è una donna, ma è un uomo travestito da donna, dall'altra parte ci sono comunque gli alti gradi di coloro che organizzano le Olimpiadi che dicono, no, lei è una donna, abbiamo fatto i dovuti accertamenti, tra l'altro questa donna, questa pugile donna, se non erro, era stata anche squalificata in un'altra competizione, e comunque loro hanno detto, noi abbiamo fatto i dovuti accertamenti, dal punto di vista medico, eccetera, eccetera, lei può gareggiare, perché appunto lei è una donna, che ha semplicemente più testosterone degli altri donne, ed è per questo che appunto ha questo aspetto particolare. ci sono tantissime notizie, alcune fake news, altre teorie del complotto, ci sono persone che hanno dei pareri diversi, ovviamente, vi lascio immaginare. Quindi, c'è questa polemica, no, perché che cosa è accaduto con l'italiana, che dopo nemmeno un minuto, saranno stati 40-45 secondi, l'italiana ha deciso di, praticamente ha deciso di mollare, ok, ha deciso di ritirarsi, e quindi è stata squalificata, e di conseguenza è stata proprio Emane Khalif a vincere. Ho visto la scena, ho visto che l'italiana non, sì, la Khalif andava lì a darle le pacche sulla spalla, ma, insomma, lei era molto arrabbiata, c'è stata questa frase dell'italiana che ha detto, non è giusto, eccetera, eccetera, e anche sull'italiana ci sono varie teorie del complotto, perché alcuni dicono che l'italiana, appunto, ha deciso comunque di ritirarsi perché ha, praticamente, capito che aveva di fronte a sé un'avversaria che, no, insomma, le avrebbe potuto fare del male, perché lei ha ricevuto, se non erro, due pugni sul naso che le hanno fatto dire, praticamente, basta, io non so se riesco, questo è stato il suo pensiero, anche se ha cambiato più e più volte versione, ma vabbè. Lei ha detto, io non voglio rischiare la vita, per cui ho deciso di ritirarmi, il dolore era troppo forte. Alcuni dicono, quindi, che è stato per questo che si è ritirata, altri, invece, sostengono che l'italiana si è ritirata perché ha capito che aveva davanti a sé non una donna, ma un uomo, e altri ancora dicono che l'italiana, in realtà, si è ritirata perché è stata un pochino usata, utilizzata come una pedina per cercare di dare l'inizio a tutta questa grande polemica perché, ragazzi, da questa miccia si è andato a scatenare l'inferno, il putiferio. Questa pugile, in mani che lì, è stata attaccata, è stata insultata. In Italia, tra l'altro, si è sollevato proprio un polverone, tantissimi anche politici sono andati contro questa donna che da alcuni viene appunto descritta come una non donna, eccetera, eccetera. Loro hanno, insomma, si sono scagliati proprio con questa ragazza perché, perché appunto, secondo loro, non è una donna. Io credo che dietro tutti questi altarini, dietro tutti questi giochini ci sia semplicemente la volontà da parte dell'elite di creare e strumentalizzare determinati eventi per cercare di far parlare perché nel momento in cui si tratta di eventi mondiali l'importante è che tu riesci a far parlare, ok, di una determinata cosa soprattutto se hai intenzione di integrare qualcosa nella società e quindi cos'è che fai? Cerchi di destabilizzare l'attenzione pubblica andando a creare questi siparietti perché la cosa che dico io è se tu italiana, allora, tu italiana, no? Se è vero che lei si è ritirata, come dicono alcuni perché ha capito non mi torna molto la versione dell'italiana che si ritira perché ha di fronte i mannequelif che sotto sotto sa che non è una donna ma è un uomo se tu sai che comunque in questa competizione ci sarà lei perché ti vai a candidare comunque? Perché partecipi? Tu devi comunque mettere in conto che potresti incontrare queste mannequelif, ok? Quindi se tu sai che la potresti incontrare se è vero che, come dicono alcuni lei si è ritirata perché sapeva di avere comunque di fronte a sé un uomo non ci partecipi nemmeno e invece tu ci, insomma, tu hai preso parte a questa competizione pur sapendo che c'era comunque i mannequelif hai preso parte a questa competizione in modo consapevole poi ci sono quindi inizialmente sul ho visto le immagini l'italiana non accettava quando questa che l'ifli andava vicino poi in un'altra conferenza ha detto che invece era molto dispiaciuta per non aver dato la mano all'avversaria che lei non c'entrava niente bla 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 insomma queste dichiarazioni sono un po' discordanti fanno un po' acqua da tutte le parti come una miniscola pasta ma vabbè crediamo pure che sia andata così qui su David Ike è stato si è stato condiviso un articolo in cui c'è scritto una seconda pugile donna lascia il ring in lacrime dopo aver perso contro una rivale che ha fallito il test di genere si tratta di Lin Yu Ting che vince il combattimento di apertura delle olimpiadi con decisione unanime ai punti un giorno dopo che i mannequelif ha lasciato in lacrime la sua avversaria malconcia si parla proprio di Angela Carini ora che cosa è accaduto una pugile che in precedenza non aveva superato un test di genere ha sconfitto oggi la sua avversaria con una decisione unanime ai punti è la seconda volta che una lotta di genere conquista lo sport olimpico in sole 24 ore perché ragazzi ci sono tantissime persone che sono convinti che loro in realtà effettivamente non sono delle donne ma il tutto viene coperto perché nella società sappiamo benissimo che stanno spingendo tantissimo proprio per normalizzare il tutto ora io vi ho detto già come la penso una persona per me può nascere uomo e sentirsi donna e modificare il proprio corpo come vuole ognuno può fare della propria vita ognuno può fare del proprio corpo quello che vuole a me non me ne frega niente di andare a criticare una persona che nasce uomo e vuole diventare donna fisicamente donna e non critico nemmeno una donna che fisicamente vuole somigliare ad un uomo non voglio criticare non è da me non mi interessa la cosa che mi fa imbestialire è quando tutti questi pensieri li vanno ad inculcare dei bambini che non sono nemmeno maggiorenni e che magari influenzati da questa società malata cominciano a dire ai propri genitori mamma io sono maschietta ma mi sento una donna e magari i genitori cercano di avviare un percorso di cambiamento su un bambino di appena dieci anni nove otto anni ci sono state delle storie di bambine o bambini che hanno cominciato il processo a soli otto anni e lì non venitemi a dire che è colpa del bambino lì è colpa del genitore perché fin quando tuo figlio non è maggiorenne sei tu che devi comunque firmare i permessi sei tu che devi comunque dare il via a determinate cose ok quindi viviamo in una società malata in cui purtroppo i bambini se non vengono tutelati vengono verranno influenzati in modo negativo e malsano e quindi a me quello non piace perché quando si è piccoli si può cambiare idea svariate volte capite anche io quando ero piccola un giorno volevo diventare archeologa un altro giorno volevo diventare giornalista un altro giorno ancora volevo diventare qualcos'altro è sempre un cambiare 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 se tu non hai ancora un pensiero strutturato e ben consolidato ma come cacchio fai a permettere che tuo figlio cambi sesso quando poi magari è arrivato a 16-18 anni potrebbe dirti mamma io mi sono pentito è questo che mi fa imbestialire sono i genitori che mi fanno imbestialire perché? perché un figlio non decide di nascere tu fai nascere tuo figlio tu decidi di mettere al mondo una nuova vita e quindi tu devi essere anche responsabile ok? devi essere responsabile abbastanza maturo maturo da consigliare tuo figlio nel fare le scelte giuste almeno alla sua età ma voi ve lo immaginate un bambino di 8 anni che viene messo sotto i ferri per cambiare sesso ragazzi io non voglio nemmeno immaginarlo ma so che purtroppo esistono ora il pugilato femminile è impantanato in un'altra controversa questione di genere poiché le due volte campionesse del mondo Lee New Thing ha disputato la due volte la due volte campionessa ok? del mondo Lee New Thing ha disputato tutti e tre i round per sconfiggere Sitora Tour di Bekova di 22 anni e ora è a una sola vittoria di distanza dalla medaglia olimpica garantita arriva appena un giorno dopo che l'Algerina e Manicheliff abbattuto l'italiana Angela Carini in uno scontro durato appena 46 secondi durante il combattimento Carini è stata colpita due volte ha riportato una sospetta frattura del naso e ha tirato solo un pugno prima di dire al suo angolo non è giusto lei rivolgendosi ai suoi ha detto non è giusto e poi Lee successivamente ha deciso di abbandonare il gioco l'incontro poi si è incinocchiata in lacrime e si è rifiutata di stringere la mano a Khalif dopo la fine dell'incontro unilaterale nella categoria 66 chili Carini ha detto di aver abbandonato l'incontro per salvarmi la vita queste sono state le sue parole e ancora una volta se tu dici che hai abbandonato l'incontro per salvarti la vita perché forse vedevi nell'avversario un qualcosa in più che andava contro diciamo il regolamento perché hai partecipato alcuni dicono perché hai partecipato se io so che una cosa è l'osca ok forse non ci partecipo nemmeno e c'è qualcosa che non mi quadra in tutta questa questione ok io sono sempre dell'idea che queste persone vengono un po' utilizzate come pedine dal sistema per cercare appunto di creare questi polveroni l'incontro si è concluso poi non si può comunque pretendere che eventi di fama mondiale siano rigidi e siano anche no diciamo così in linea con come dire non possiamo credere che il tutto sia in linea con la legalità ok perché chi conosce il sistema sa cosa si cela dietro poi l'incontro si è concluso in modo meno aspro rispetto a ieri con Lynn e Tu di Bekova che si sono toccate i guantoni dopo che lei ha ottenuto la vittoria all'unanimità tuttavia le due non si sono abbracciate né si sono congratulate a vicenda e la pugile sconfitta ha lasciato rapidamente il ring rifiutandosi di fermare rifiutandosi di fermarsi a parlare con i giornalisti lo scontro tra Lynn di 28 anni e Turdi Bekova ha scatenato polemiche dopo che Lynn non ha superato il test di idoneità di genere ai campionati mondiali dello scorso anno Lynn che si è presentata alle olimpiadi come testa di serie ha perso la medaglia di bronzo perché non è riuscita a soddisfare i criteri di ammissibilità non specificati dall'International Boxing Association anche l'algerina Emaneke Liv di 25 anni che qua c'è scritto ieri ma sicuramente voi questo video lo vedrete più in là quindi non sarà sicuramente passato un giorno ma più giorni e quindi qui c'è scritto che anche l'algerina Kelif di 25 anni che ha vinto contro l'italiana Carini in un incontro durato appena 46 secondi è stata squalificata poche ore prima della sua partita per la medaglia d'oro nella stessa competizione quindi le due sono state squalificate perché effettivamente non hanno superato questo test di genere l'idoneità di genere idoneità di genere significa io ti autorizzo a partecipare ad un incontro di pugilato di donne perché effettivamente sei idone al genere sei una donna ok il comitato olimpico internazionale ha messo in discussione la mossa descrivendola come una decisione arbitraria che non ha seguito il giusto processo in seguito ha ammesso che le regole di genere sono un campo minato grazie al vantaggio in altezza rispetto alla sua avversaria Alin ha subito piazzato un potente destro dando inizio ad un match dominante rimbalzando sul ring sopra Turbi Bekova ha sferrato una serie di pugni esplosivi contro l'atleta trovando la sua portata e sfruttando la sua maggiore diciamo la sua maggiore massa muscolare non portata la sua maggiore massa muscolare per colpire con pugni da ben più lontano ha dominato il primo round lottando duramente nonostante il suo avversario abbia segnato solo un punto è questo che alcuni mettono anche in discussione io li ho visti quei 46 secondi tra l'italiana e Kelif ok e ragazzi vedo un accanimento no in questo caso da Kelif c'era un accanimento nel senso se pure tu sei donna con una maggiore percentuale di testosterone forse dovresti anche abilità diciamo così forse dovresti anche cercare un attimino di il compromesso io ho davanti a me un'avversaria che ha una massa muscolare minore che potrebbe farsi molto male se la andassi a colpire duramente però io la colpisco comunque duramente e la stessa cosa è accaduta in questo secondo match anche se l'altra anche se l'altra ragazza ha fatto solo un punto l'altra che era comunque in netto vantaggio ha continuato continuato e continuato a colpirla duramente perché punto interrogativo qui c'è proprio scritto questa Lynn ha dominato il primo round lottando duramente nonostante il suo avversario avesse segnato soltanto un punto quindi è un accanimento lì mentre sfrecciava sul ring seguendo brutalmente il suo avversario Lynn ha fatto fatica a sferrare un pugno decisivo ma ha ripetutamente dimostrato la sua forza assestando colpi potenti se tu vedi che dall'altra parte c'è una persona fragile perché devi sferrare questi colpi potenti nel secondo round aveva già un vantaggio inattaccabile avendo ottenuto tutti e cinque cartellini a suo favore Turdi Bekova ha combattuto coraggiosamente piazzando colpi dimostrando il suo impegno nel tentativo di avvicinarsi alla combattente quindi diciamo che a differenza dell'italiana lei ha voluto combattere eccetera eccetera però se dovesse essere vero che in queste gare vengono fatte diciamo così gareggiare delle persone che allora se queste sono state squalificate in passato un motivo c'è non credo che chi le ha squalificate è proprio un pazzo quindi se veramente quelli delle olimpiadi hanno magari mascherato una determinata cosa che invece bisognava rendere pubblica per cercare ancora una volta di sensibilizzare le persone a non fare discriminazioni eccetera io sono d'accordo col sensibilizzare le persone al rispetto perché noi dobbiamo rispettare il fatto che una persona può essere può diventare quello che vuole a noi non ci tocca non ci deve toccare ok però se veramente hanno fatto qualche magagna per cercare di fare passare qualcosa di illegale come legale come loro solito fare beh lì i problemi ci sono sono ripeto anche dubbie ragazzi le dichiarazioni dell'italiana le dichiarazioni in generale ci sono tantissime persone super iper convinte che Calif in questo caso sia un uomo su vari gruppi telegram che io seguo ci sono tantissime immagini che diciamo immagini che cerchiano determinate parti sotto cui c'è scritto che è soltanto un uomo che può avere questi tratti però dall'altra parte coloro che difendono la Calif dicono è nella sua genetica nel senso lei ha più testosterone quindi è ovvio che la ragazza sia diciamo un po' più mascolina nei tratti nella sua fisicità eccetera eccetera ma non è colpa sua perché il suo sesso è comunque femminile non lo so ragazzi io proprio se dovessi descrivere la mia situazione mentale in questo momento la paragonerei ad un'esplosione perché in questi casi bisogna sempre cercare di analizzare il tutto in modo razionale ok se dobbiamo utilizzare la ragione noi sappiamo che dietro questi siparietti ci sono sempre loro sempre loro sono dietro all'organizzazione di questi eventi mondiali sempre loro quindi come dobbiamo intendere queste polemiche come un qualcosa volta a diciamo così attirare l'attenzione delle persone c'è qualcosa dietro ho sentito un rumore dubbio comunque fatemi sapere quello che pensate io attendo di leggere i vostri commenti venitemi a trovare anche sul mio secondo canale sempre solo se vi va vi mando un bacione per il momento un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima